5 gennaio 1984, sono passati 40 anni da quel momento in cui spararono a Giuseppe Fava davanti il Teatro Sabbe di Catania. Solo un ingenuo può pensare che quell'omicidio sia stato voluto, organizzato ed eseguito da Nitto Santa Paola, da Gliercolano, senza che ci sia stato un mandato preciso. Ora era un braccio armato, braccio operativo, che in quel caso, in quegli anni, si muovevano a tutela di un sistema di interessi corporativo, un potere forte, collaudato, che sconfinava nella magistratura, l'istituzione e la politica. La determinazione si è arrivata da uno di questi segmenti, ma noi siamo ancora creditori di un pezzo di verità. Soprattutto la mafia dai colletti bianchi ha cambiato abito oggi? La mafia è cambiata, si è fatta meno tracotante, più furba, più attenta. Forse siamo cambiati meno noi. Se scopriamo oggi, a 40 anni alla morte di Giuseppe Fava, che per un quarto di secolo il presidente dell'industria di Catania aveva pagato la sua brava tassa a Cosa Nostra, e così come lui e tanti altri commercianti, ci dobbiamo chiedere davvero quanto siamo cambiati noi, quanto sia cambiato il nostro mondo. Quello che ha sempre voluto dire a Giuseppe Fava è che un giornalismo etico, quello a cui ha sempre creduto, potrebbe portare più facilmente alla giustizia. Il giornalismo etico è un giornalismo che fa domande. Un giornalismo che si pone di fronte al tema del dubbio. Credo che sia cresciuta una generazione di giovani cronisti più o meno blasonati, anche senza il tesserino dell'ordine in tasca e però senza essere garantiti, spesso senza essere tutelati ai loro editori, che però ha dimostrato di avere raccolto e valorizzato la storia, la lezione di Giuseppe Fava.